Una città chiusa per neve, sia pure in fase di miglioramento, rimane complicata la situazione di Nuoro, sommersa da un'abbondante nevicata che ha raggiunto uno spessore di 30 centimetri. Un evento eccezionale che ha portato il sindaco Andrea Sud ieri a decretare per la giornata di oggi la chiusura delle scuole, già rimaste chiuse nella giornata di ieri, e gli uffici pubblici. In queste ore la macchina comunale sta facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, ma la grande quantità di neve è caduta in poche ore, con nevicate sia pure di minore intensità che hanno riguardato il capologo Barbaricino nella notte e nel primo mattino, non stanno facilitando il compito della protezione civile. In città sono all'opera spazzaneve, mezzi spargissale, i vigili urbani, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Le strade del centro sono quasi del tutto sgombre dalla neve, sono transitabili, difficoltà permangono invece nei rioni periferici, dal nuraghe a città giardino, a predistrada, a Montegurtei. Queste ore di tregua concesse al maltempo dovrebbero portare ad un miglioramento della situazione della viabilità, ma la neve accumulata sui marciapiedi e a bordo strada rende comunque necessaria una grande prudenza da parte di automobilisti e pedoni. Rimane complicata la situazione nei paesi montani, con fogni e desuli in testa, dove la neve ha superato in alcuni casi il metro. Anche in questo caso la macchina della protezione civile all'opera, anche se la quantità eccezionale di neve è caduta in poche ore, sta rendendo difficili gli intervini. Si stanno sgombrando le strade provinciali, ma la viabilità rimane un miraggio. Alle forze dell'ordine e della protezione civile vengono confermati gli appelli alla prudenza. L'insidia ora potrebbe essere rappresentata dal ghiaccio, che potrebbe prendere il posto alla neve. Le temperature sono date in calo nelle ore notturne e per nulla la provincia e i prossimi giorni potrebbero riservare delle ulteriori complicazioni alla vita quotidiana.